Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di demolizione della Corte Amigazzi, previsti dal Pinqua, che è un piano per portare quest'area che è abbastanza fattiscente a un livello di utilizzo per tutta la collettività. Quindi nella prima fase è stata demolita la parte non soggetta a vincolo da parte dell'ente e è stata salvaguardata la parte invece più pregiata e anche più caratteristica per Rescaldina che è quella della torre. Nella fase successiva inizierà a breve la fase di valorizzazione di quelli che sono tutti i materiali di risulta ottenuti dalla demolizione degli immobili che verranno poi successivamente utilizzati per i riempimenti. Inizieranno poi i consolidamenti delle fondamenta degli immobili e la ricostruzione così sull'impronta che aveva originariamente la Corte in modo da riportarla ai vecchi fasti. Tutta la piazza poi sarà oggetto di riqualificazione, verrà sistemata la parte alle mie spalle dove nascerà un giardino a completo utilizzo della biblioteca che verrà qua trasferita mentre nella rimanente parte della piazza ritornerà quello che è il mercato settimanale con una disposizione differente ma che comunque permetterà a tutte le bancarelle oggi presenti sul mercato di nuovamente far parte del mercato settimanale. L'impresa ha iniziato nei giorni scorsi la demolizione e subito dopo il periodo estivo ricomincerà con la parte di frantumazione di quelli che sono i materiali di risulta e sarà quella che probabilmente ci attendiamo la fase più di disturbo per la popolazione perché ovviamente è una prassi che produce dei rumori ma ovviamente cercheranno di mitigare il più possibile di impattare anche come polveri nel minor modo possibile.